...d'intrezzarsi anche dell'escursionista con il viandante, del pellegrino con quello che vuole farsi una lunga camminata, che però magari sono le stesse persone che si intrezzano, no? Rigenerarsi spiritualmente, rigenerarsi fisicamente. E allora ecco, io spero che e credo che questo libro, come il percorso, avrà il successo che merita, perché è l'opera di una cordata, prima ci siamo messi assieme, Sat, Tutte Trentine, insomma ecco, un connubio, una coedizione che non è solo una coedizione tipo editoriale, ma una coedizione di pensiero, di idee, di lavoro e di responsabilità. Quindi mi fermo qui, augurando proprio a tutti un buon cammino. Grazie.